Pronto Roberto? Annulla tutti i miei impegni. Ma butto tutto insieme, ma che sarà mai? Roberto, qua non se ne viene fuori, eh? Non è che vuoi farlo te. Se lo appoggiassi di lato, messo sopra, faccio la differenziata per colore, eh? Ma certo che lo voglio fare, lo faccio tutti i giorni. Roberto, riconferma tutti i miei impegni. Roby, cancella di nuovo tutti i miei impegni. Grazie. 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 Grazie.